voi siete pazzi voi siete pazzi 8 minuti di 20 minuti di sofferenza più 8 di recupero voi siete pazzi voi siete pazzi voi siete pazzi vi volete morto vi volete morto che sofferenza 6 cazzo primo sconto diretto vinto contro napoli che gioco una bellissima partita giocato benissimo ma l'autaro che gol che ha fatto comunque bellissima partita intensità assurda sarà la partita di premier league per tutta l'intensità che c'era a fine partita ma 8 minuti di recupero mette che si mangia quel gol lì hanno riuscito a fare la paratona su mario lui voi vi volete morto io c'ho il cuore che sta battendo la profusione mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia uno sconto diretto meno meno 4 caro milan calma che sono meno 4 calma tempo al tempo è giocato bene abbiamo fatto una bellissima partita l'autaro c'era con un grandissimo rigore e perdic ha fatto una bellissima partita perdic una partita da 9 oggi difendeva correva faceva spettate contro culibali cross gol anche di testa cioè ha fatto una partita ha fatto una partita bossuosa perdic a rocchia credevo peggio credevo peggio perché aveva oggi non ero più un bel un bel giocatore da affrontare capito perché oggi bene forte veloce e tecnico e a rocchia ha avuto una vita difficile però ha giocato bene a rocchia come ha giocato bene bastoni abbiamo giocato bene tutti ma è anche lui partita assurda cioè cazzo mi guardate di amarello fa ogni volta avanti indietro anche lui ha venti polmoni e cazzo è come gioco un giocatore assurdo assurdo comunque avevo vinto stiamo calmi adesso è ora sempre il sigma interiore quindi quando giochiamo gli ultimi 20 minuti se giochiamo così è un delirio perché non si può non si può che tu sei 3 a 1 poi Mertens fa un gol alla manonna su l'errore di Inzigo perché prende palla ma fa un gol Mertens e gli ultimi minuti ti fai in difesa e rischi pure di perdere perché hai iniziato anche di perdere non c'era la parte di Mario Rui e Mertens tirava in porta invece di tirarla in curva nord e era gol la prendevi la pareggiavi non so cosa succedeva però sono contento c'era impari ancora un po' di cose c'era migliorare un po' di cose ma va bene così abbiamo vinto uno sconto diretto contro Spalletti che rivele la sua ex curva e sperando che l'abbiano pulito perché comunque Spalletti già provati in Champions e ho fatto rinascere Spalletti complimenti anche a Napoli che ha giocato una benissima partita senza baguisa che un giocatore spaventoso dopo poi io c'è il quattro c'è il cuore che batte da l'addizio partita ancora già che la palla di verte sempre detto ciò e vi saluto e la puntata posto video sempre forza inter o babà mamma 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 sai perché mi batti il corazzo ho visto l'autarigno ho visto l'autarigno o mamma innamorato so si vuole bene napoletane forza inter sempre comunque avanti così che ansia però che pazzi grazie a tutti